Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, non nuovo, nuovissimo video, perché è da tanto che non faccio video su YouTube. E qui ci sono gli amici, Triceratopo, non mi ricordo, questo è Linosauro, e Misoplesiosauro o Lungosauro. Questo è l'Uovo Rifacqua. Buongiorno, buongiorno. Ah, buon pomeriggio. Buonanotte. Beh, mo, andiamo, io vado a dormire sulle piante. Aspetta, io devo mangiare con le piante. E cosa ci fa? Boh, vabbè, io dormo qui. Qui, cado. No, no. Ah, che bello giocare qui. Eh, a me. Allora, se insisti. Ah, io sono caduto. Ragazzi, mi aiutate. Eh, lo so, sei grande e grosso. Allora, io vado a quello più piccolo. Ah, io sono andato al proprio centro. Ecco, oh, oh, eccomè. Ecco, vabbè, io posso uscire tranquillamente. Uh, ciao. Io vado a casa. Buongiorno. Ma, 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 ma a me non ci aiuti? Ah, anche a me non ci aiuti, che sono proprio quello profondo, profondo. Ah, va bene, va bene, va bene. Ti aiuto. Ah, è massissimo. Ah, io sono... Scusa, è largissimo. Ah, qui è bassissimo. Non potevi fare per così. Ah, io, ah, io, oh. Ecco, adesso chi vi trida fuori? Tu! Vado a chiamare un altro dinosauro. Ehi, ma aspettate qui! Ecco! Tanti altri dinosauri! Mu! Avevo detto altri dinosauri! Dinosauri grandi! Ma quanto è puccioso questo! Ok, però grandi! Ok! Oh, non di acqua! Sono venuto a fuoco a quel per questo! Wow! Che vero che sì! Sono più grande di lui! Ma abbiamo lo stesso colore! Siamo gemelli! Veramente no! Perché non siamo della stessa razza? Ciao! Ehi, ma, 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 ma! Ehi, ci aiuti! Vabbè, io mi so tirare fuori! Io ti aiuto! Ma! Ma, 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 me lo dicevi, me lo dici! Ma, 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 ma lo dicevi prima? Ma! Ma, 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 ma... Almeno sono nuovi amici, no? Anche voi siete nuovi amici! Perché neanche vi conosciamo! Sì, non mi conoscono. Sono dei sconosciuti. Comunque, il mio vero nome è Vitello, anche se sono un dinosauro triceratopo. E il mio nome è Gallo, allora. Cioè, il mio nome è T-Rex. No, non sei un T-Rex, ti chiamavi Gallo. Ah, Gallo, sì, 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 Galetto. Gallo, Gallo. E io mi chiamo, senza nome, veramente mi chiamo Marrone. Io mi chiamo Arancione. Beh, allora anche io mi chiamo Gallo Arancione. Io mi chiamo Nero. Sì, dai. Comunque, i nostri nomi sono. Vitello e Arancione. E Gallo o Galletto. Ok, siamo l'unico piccolino. Anche se io sono più grande di lui. Capito? Allora, io vado qui e io vado qui. Uh, figo. Ma, 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 cosa avete fatto? Infatti. Una cosa fighissima hai fatto tu. Ma nessuno mi aiuta. Io ti aiuto. Allora, io ti ho salvato. Grazie. Prego, posso essere la tua famiglia? Non siamo della cecciarasa, ma sì. Oh, ma anche soltanto mia madre. La chiamo, la vado a chiamare. Ehm, bastiamo soltanto io e tu. Arrivo, arrivo. Se non la trovi, bastiamo io e tu, eh. Per ora, ecco, la trovata. Stavo dicendo per ora, non la trovo. Ciao, piacere. Piacere. Ok, come ha detto, siamo una famiglia. Sì, piccolino. Siamo uguali. Dicolo, eh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Beh, fargli fare dei salsi. Ok, ok. Oh, oh. Sì, ma chi lo può accendere a lui? Tranquilli. Tranquilli. Uh, arriva mia madre. Ah. Mamma, ma cosa hai fatto? Oh, arriva il papà, arriva il papà. Oh, papà agile, no? Sì, sempre papà agile. È figlio agile. Oh, oh. Oh. Io voglio sapere che cos'è questa polverina. Perché non è niente. Va bene. Oh, io. Oh, figo. Tranquillo. Tranquillo. No, vado io. Io, io, io. Io. Vado io. No, io, no, io. Ok, ok. Piccolo. Ah, no. Ecco. Uh, uh, vieni. Uh, uh. Salvataggio estremo. Ma, ma, gallo, cosa stai facendo? Galletto. Eh, ah. Cosa? Vabbè, gattino, come ti chiami tu? Non ti ricordi. Neanche io mi ricordo. Tu ti ricordi, Mirko? Non ti ricordo. Eh, e tu ti ricordi, Lemure? Io mi chiamo Nero. E tu, gialla? Giallo. Ah, gialla. È giallo. Sei femmina. E tu, arancione? Beh, eh. Galina? Eh, è bello, galletto. No, no, no. Sennò che mi chiamo come lui. Ma io come mi chiamo? Non mi ricordo. Voi vi ricordate? Eh. Devo andare un attimino. Allora? Sono ancora impaciente. Come mi chiamerò? Vado a chiedere. Come ti chiami? Ah, a lui! A lui non hai chiesto! Pianta! Verde! Tu ti chiami Marrone! E tu ti chiami? Verde! No! Preferisco Pianta! O Vasino! Ok, il meglio Vasino! Pianta! Vasino! Pianta! Vasino! Pianta! Vasino! Ok, Vasino! Ah! Avete sentito come si chiama? Vasino! Ah! Beh! Non scopo! Beh! Tu sei pazzo! Amico! Amico, vado a chiamare... Io... Oh! Sono più grande di lui! E sono più forte di lui! Cioè, sono più piccolo di lui! Io sono più grande di lui! Ah! Sono più piccolo di lui! E io sono più forte... Ah! Di lui! Beh, lui si chiamerà... Anche lui! Come me! Ah, no! Lui Secchiello si chiamerà! Ah, Secchiello? Che nome è? Siamo fratellini! Secchiello! E... Vasino! No, Vasino e Vasino! Sì, Vasino! Vasino, come stai? Tutto bene? Vasino, come stai? Ah, ma a me! No, è a lui! Ah, che bello! Siamo tutti e due! Siamo dei gemellini!